Che ci faccio qui? Questa domanda se la faceva Bruce Chetwin, un libro pubblicato da Adelphi, intitola questo che ci faccio qui, improvvisamente in un viaggio in cui è perduto, si è perso in Cina, si è disperato, e si fa la domanda, ma che sto a fare qui? Ecco, è un po' una domanda che nasce da, non dico da una disperazione, ma come dire, da un momento di riflessione su noi. La vorrei scomporre. Cosa? Ci faccio io? Qui? Dove? Sono tre cose molto complicate. Io oggi mi piacerebbe che voi rispondeste alla domanda ci faccio, cioè io, perché non si può pensare che faccio qui, che ci faccio qui, se non abbiamo il soggetto. Al di là delle vostre singolarità che scopriremo insieme, il chi sono io, si può anche intendere chi sono io, chi sono come categoria, biologicamente, come generazione, chi sono come cittadino di questo paese, chi sono come artista, e poi anche il chi sono io, che ci facciamo qui come specie. Dobbiamo rispondere anche agli altri due pezzi della domanda. Il cosa? Direi che non rispondiamo, perché è esattamente la mappa che costruiremo. Qui è una domanda a cui dobbiamo rispondere abbastanza in fretta, perché si può declinare in tanti modi. Allora, qui a Padova, qui in Veneto, qui nel nostro paese, qui in Occidente, qui nel pianeta. Sono tante le esplorazioni che si possono fare di questa trilogia di parole. Cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio qui?